Sì, grazie Presidente. Su questo tema, un tema importante, fondamentale, noi lo repotiamo una bomba ecologica a tutti gli effetti e a tal riguardo abbiamo convocato con urgenza una Commissione Ambiente per audire gli attori principali di questa questione, gli attori che chiaramente hanno portato a termine un compito molto ardo come la protezione civile, come il gabinetto del Sindaco, organi del Comune di Roma che prontamente si sono mossi per cercare di supervisionare e tamponare una questione di grandissima emergenza ambientale. Noi allo stesso tempo abbiamo anche convocato l'ARPA, che è l'organo regionale deputato a svolgere le attività di controllo e anche di indagine per quanto riguarda i limiti di PM10 e di tutti gli agenti inquinanti che sono stati chiaramente frutto dell'allarmismo e comunque chiaramente quegli agenti che provocano un danno ambientale molto importante, parliamo di idrocarburi, di diossine, di nanoparticelle di Eternit. Sicuramente sono dati che il Comune di Roma non può avere, sono dati che ha la Regione Lazio, ricordiamo che la Regione Lazio ha dato tramite l'autorizzazione semplificata l'ok per l'apertura di questo centro sensibile che è ECOX, che trattava di fatto rifiuti dannosi e anche altamente inquinanti. Io più che altro chiederei l'audizione del Presidente Zingaretti, che è l'organo deputato che ha dato oltre l'autorizzazione, ma anche l'organo deputato a garantire il controllo su quell'impianto. Il Comune di Roma sicuramente veglierà o comunque quello che ha fatto è stato convocare automaticamente il COC, il centro operativo comunale composto dalla protezione civile, dal gabinetto del Sindaco e anche da Ama, che ripeto hanno prontamente eseguito tutte le operazioni di indagine. Però ricordo a tutti che la competenza specifica su questo tema non è né del Comune di Roma né del Comune di Pomezia, ma è prettamente della Regione Lazio e dell'ARPA e anche dell'Asla Roma 6, che comunque sta svolgendo le operazioni di indagine sulla questione ambientale. Ecco, allora io sposterei l'attenzione e le competenze sulla Regione Lazio che, ripeto, è quell'organo che dovrebbe spiegare per quale motivo questo impianto non aveva un servizio di antincendio o comunque non erano state predisposte delle mascherine per quanto riguarda l'Ethernet, perché sappiamo che appena vi è un incendio per evitare il rischio di danni chiaramente all'organismo deve essere posta automaticamente una mascherina per cercare di evitare il mesotelioma, che è una patologia molto grave che viene provocata con le nanoparticelle dell'Ethernet. Noi chiediamo che vengano effettuati questi controlli, queste indagini in modo accurato. La Commissione Ambiente continuerà a fare il suo lavoro, cioè a monitorare la questione di EcoX e la prossima Commissione verterà in un'audizione specifica e chiara dell'ARPA che chiaramente dovrà dare i dati certi e sicuramente insomma come amministrazione abbiamo fatto tutto il possibile, mi sembra anzi sia stato fatto un grande lavoro. Grazie.